Se ti piace la frutta Ok, vediamo se ho capito Se sbagli il quarto down, allora la palla passa all'altra squadra? Sì, si chiama turnover E se copri dieci yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down Cavoli, che casino Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso Ok, eccoci all'università dell'est, del Colorado Siamo ufficialmente, ragazzi, nel settimo atto Su, forza Ok, qua c'è da fare la zia di tantissime cose E ci sarà da arrivare Da quel che ricordo Un po' anche passare All'edificio scientifico, se non ricordo male Però, ragazzi, mi raccomando Controllate sempre In giro ogni cosa Fermo Che hai visto, che hai visto? Ah, ecco Che ragazza di nome è Callus, poi? Sì, fa effettivamente cacare Callus Dov'è? Eccolo No, scusate, l'avevo perso Dai, dietro Ma andiamo Allora qua non vedo niente Andiamo nella zona centrale Sì, aspetta, aspetta Sì, prima che ci arriviamo Sai quanto tempo passa? Non ne hai idea Ok, qua Andiamo a destra Andiamo a sinistra Però prima andiamo di qua Oddio, quel nome Sì, in effetti Si è scelto veramente un nome di merda Fatelo dire Non credo che il cavallo Sia Abile A saltare questa Recinzione Spinata Per l'età potrebbe, però Non so se le meccaniche del gioco Lo permettono La mia gola sta sempre di merda Non è cambiato niente da ieri E andiamo su Allora Tanto cosa posso fabbricare? Esattamente niente Bellissimo Il lanciafiamme adoro Mandiamo i carabinieri Ma li mandiamo con il lanciafiamme Qua c'è un tavolo Però prima Non c'è fiamme Fammi un attimo Per lustare la zona Sono già a quota 10 integratori nuovi Altri 10 bulloni Vabbè, meglio di nulla Comunque sia Qua esco fuori Giusto? Yes Ma me cazzo fischio Qua ormai secondo piano E Vediamo cosa mi dai Beh Qui c'era un posto di guardia È un buon set Si è visto Inquietante Molto inquietante Che è per illustration Finita Torniamo giù A riparare Le nostre armi Anzi più che riparare A potenziare Le nostre armi Allora, era qui Giusto No, era di là Che cazzo era? Oh, eccolo lì Ci siamo 60 soli Non posso neanche creare la fiondina Aumentare la portata Però Non ne vale la pena Non ne vale veramente la pena Allora Se portassi quest'arma Al massimo Yes Almeno Sfrutta Il massimo Delle sue potenzialità Scompiamolo Shorty Perdonate ma Non so veramente Cosa potenziare Con 30 Quasi quasi vado Da il diavolo E gli faccio La velocità di fuoco Ok, ci siamo Tanto finito Vamos Mossa Ah, invece si salta Ok, perfetto Forza Detto una cazzata Facevano feste Cercavano la loro strada Capivano cosa fare Delle loro vite Capivano cosa fare Delle loro vite Sì, non serve che ripeti Grazie Spostati Qua Qua ha richiamato la mia attenzione Col triangolo Ma in realtà Poi non dovevo fare niente Grazie Una stagione Ok, partiamo da qua Non c'è niente Forza O forse sì Di qua non si può andare Quindi per forza Dentro quell'edificio Torno subito E voglia di prendere Antibiotici Bene Oh Che situazione da cani Comunque sia Banda alle ciance Di luce intendo Ma ci sa qualche lampione Per un'operazione così Bullshit No davvero il mio senso Dell'umorismo È bloccato Dieci anni fa Devo Un po' portarlo Alla pari Con la mia età Anagrafica Lo dico sempre Vabbè Comunque apriamo questa porta Buono Resta col cavallo Vado È un clicker Sì Non voglio che scappi via Torno subito Allora Buono Buono Come cazzo ti chiami Klaus Come si chiama? Questo cosa È stato sistemato Dalla buona Vabbè Meglio di nulla Qualche dice Va bene Tanto Ci servirà giusto Per aprire il cancello È a secco Eh Ci sarà da andare su Sicuramente Incontreremo delle sorprese Ne sono sicuro Giusto qualche clicker Qualche No Non ci tengo A incontrarmi con te Scusa Cosa Due Piazza per il consiglio Beh Non male Volevo fare tutto più stealth Però Non so come Avevano fatto Accogliermi Cioè Più che accogliermi A individuarmi A posto Ho anche staccato la testa A qualcuno E mi dispiace Aver perso Il macete Per dei coglioni così Però vabbè Il fine giustifica i mezzi Siamo vivi E l'importante è quello Più che altro Ecco Più ci avviciniamo al finale Più in qualsiasi gioco È consigliabile Conservare Più proiettili Più cose possibili Ed evitare di sprecare Oggetti così proprio A gratis Ecco Niente di interesting Nemmeno qui Minchia che tirchio che sei Fammi Perlustare il piano Aspetta 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 Sì Vabbè Comunque rispunto qui Ok Allora andiamo Dal generatore Ho acceso una candela Perché c'era un brutto odore In questa stanza Io non posso aprire la finestra Perché se no mi sentono di fuori Quindi per eliminare Brutti odori Accendo la candela Ma Questa candela Che è tipo Due metri da me Mi sta cuocendo La tua sole Ma pure Oh finalmente Era fresca Che mi porta anche Il profumo della candela Ok salta giù Dai Non salta Va bene Ehi Stavo pensando Avrei voluto fare la cosa Davvero Ok Ok il primo checkpoint È fatto Andiamo avanti Cosa avresti voluto fare Beh Quando ero bambino Volevo fare il Il cantante Sicuro E comunque non canta Sto stronzo Anyway qua non c'è niente Tanto meno qui Forza 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 Scimmi Fatevelo dire Comunque L'edificio dovrebbe essere Quello là dietro Quindi non dovrebbe mancare Così tanto Considerando che Per esperienza Da quando L'ho iniziato All'incirca Un capitolo Si aggira Sulla mezz'oretta Siamo quasi a metà Poi non è detto Magari me la sono gufata Perché La lobby dell'hotel Se andate a spulciare I video sul canale Dura 56 minuti Una cosa così Volevo morire Perché poi facendo I video in 4k Ragazzi Era un video Che pesava Più di 100 giga Vedo Ma immaginate A caricarlo poi Il giorno della luce Sì, 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 sì. Direi che qua le cose sono leggermente abbandonate. Però davvero potresti darmi qualche oggettino, zio, però... Anche qua si affaccia sullo stadio, credo. Sì. Vabbè, stadio, campo, chiamatelo come volete. Vediamo le porte, se ci sono... Ok, ho un campo da football. Ci sta. Ci sta benissimo. Sì. Sicchi. Sembra tipo il primo San Siro, quello con le tribune separate degli anni venti, del novecento. Vabbè, se non l'avete visto, non potete capire. Meme di The Joker non capiresti. Comunque sia. Già. È arrivati qui. Sembra che siano anche connessi. Faccio da passare di là. Eh sì, aspetta che si apre. Fa' attenzione. Anche tu. No, aspetta, no, non faccio attenzione. Mi butto così, tranquillo, beato. Tecraturi, ragazzi, all'inizio scarseggiavano, ma adesso vanno avanti a gonfie vere. Comunque cos'è? La mappa? Ok, più o meno. È chiaro? Non mi dà niente? No. Mi raccomando, ragazzi, cauti. Ma molto cauti. Che tanto ci sarà da salire ancora? Beh, se mi fa aprire queste porte... Mi devi dare qualcosa esattamente? Ah, beh, un panno. Meglio di nulla. Sto cercando di capire che edificio possa essere questo. Forse un'università? Sì, credo un'università. La chitarra rotta, l'esport rotta, no. Che brutto. Chissà per quanto sono stati nascosti. Posso fabbricare un kit medico? Non posso fabbricare ancora. La molotov? Qua è vuoto, che bello. Come se è pagliaccioso quando mi... dà i cassetti vuoti. Vorrei veramente prenderti a schiaffi. Vabbè, la luce non serve neanche più. Ok, un attimo, un attimo, un attimo. Questi sono buonissimi. Questo invece? No! Aspetta, però se facessi così... No. È completa. Che cazzo stava a fa' Vabbè, non lo voglio sapere. Però boh, mi ispira più fiducia... questa. Perché c'è tipo dei proiettili esplosivi per qualsiasi cosa mettiamola in conto. Oh, no. Non è che posso passare di qui? Ovvio che no. Oh, cazzo. Cinque clicker. Da dove comincio? Perché credo siano quattro clicker? E un blotter? Perché quella figura là è troppo grossa per essere un clicker. Quindi, boh. Tanto fammi prendere il fucile a pompa. Poi fammi prendere la molotov. E fammela tirare. Via. Ok, in questi casi lo stealth ha poco senso di esistere. Vieni. Vieni, amore. Vieni, amore. L'ho sentito dietro di me. No. Ok, dimmi che clicker almeno sono tutti morti. No. Via. C'ho una molotov sola. Dov'è? Dov'è blotter? Eccolo là. No, ho fatto troppo a strada. La bomba di Bill. Via. Una. Due. Tre. Via. Oh, però lanciafiamme serve, eh. È morto? Wow. Wow. Godo. Ahahah. Godo. L'ho ammazzato davvero con quel... La pisciatina di fiamme che... Sì. Definitely. Ok, adesso io prego che mi ridiate indietro tutto quello che ho speso per questa carnificina. Allora. Ok, tenenta di lanciafiamme. Ci sta. Ok, me ne potresti dare anche di più, eh. Però va bene. Qua c'è tutto, nastro, tutto quanto. Qua che mi dai? Niente. Però aspetta. Due. Tre. Manca l'alcol. Ok, con le lame ci stiamo rifacendo. Ehm... Qua integratori? No. Che merda la vita. Comunque. Mi son dimenticato prima di esplorare il primo piano. Preso dalla fotta. Non ci sono andato. Complimenti Adriano. Quindi. Questa dovrebbe essere una benda, esatto. Minchia, ho tre bende. Non ho alcol. E come dico sempre, non avere alcol non è mai bello. Eh, durante la battaglia non potevo aprirla. Mi avrebbero colto. Reggirà. Ok, basta, vero, adesso? Fammi vedere un secondo. Partiamo da qui. Vuoto. Grazie. Qua che mi dai? Esplosivo ad oro. Parivano degli integratori quelli, ma... Era semplicemente un troll. 10 integratori ad oro. Quanto siamo? 35, dai. Io spero, entro la fine di questo atto, di fare altri 50. E il senso è di arrivare al 50. Fantastico. 60% della popolazione è infetta. Quel coso bianco era una grossa illusione ottica. Che palle. Vabbè, andiamo avanti. Ho la voce di Simone Inzaghi. Spiazze per i ragazzi. Ma da qua ci sono venuto. Sì, ci sono venuto. Che troll è? Aspetta, aspetta. Ah, di qua. Ok. Altri infetti. Sto bene. Apri il cancello. Eh, benissimo. Allora. Aspetta, spiegamelo un attimo. Zio, dove lo devo mettere? Ah, ok. Il fio doveva passare sotto. Ok, credo vada acceso. Sì. Due. Tre. Dobbiamo in cancello. Ce l'hai fatto? Sì. Dai, passa. Aspetta un secondo, qui è un contenso speso con questo posto. No. Ok, ce l'avrà per sempre, ho capito. Credo che quei clicker fossero luci. Forza. Come quei clicker fossero luci? Cazzo di scizia. Perché tengono gli infatti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa. Forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. È vero? Potrebbe essere una difesa. Ha ragione, Bill. Metto degli infetti in un punto dove non possono scappare, così chiunque si avvicina viene fritto. Ha senso. Ha molto senso. Comunque dovremmo esserci, ragazzi. Comunque dovremmo esserci, ragazzi. Niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Entriamo. Ok, tutto molto bello, però, 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 approfitto per prendere esattamente questi. Mi piaceva la figa. Mi piaceva la figa. Joel. E comunque questa è una buona caratteristica perché si vede palesemente che la sta trasmettendo anche a Delly. Qua, vabbè, sono stato fortunato due volte. Posso anche esserlo tre. Non ci sono punti per potenziare le armi, giusto o no? Vabbè. Però tutte queste cose prendo e porto a casa. Prima di arrivare allo science building. Piastina delle luci. Troveremo mai delle luci ancora in vita? Sarà meglio. Eh, purtroppo. Dammi il cavallo. Tirati indietro. Su, forza. Ok. Guarda là giù. C'è da aprire sto cancello. Sì, sembra una via d'accesso. No, zio, non funziona. Rinunciaci. Luginite è bloccato. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Potremmo passarci su. Sì, aspetta, arrivo. Comunque ragazzi, ho una fame. Più che fame non lo so. È voglia di latte e cereali. Così a caso. Ma proprio iper a caso, eh. Qua bisogna chiamare O'Toodles. 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 Eccolo, O'Toodles. Trovato. Credo che sia quello, eh. Non è quello, O'Toodles. Toff. È questo, O'Toodles. Vaffanculo. Mi hai fatto andare fino in Jamaica. Accidenti a te. O'Toodles, di merda. Dai. Grande O'Toodles. Ok. Non era quello che avevi detto. Tanto non è sbagliato nessuno, zio. Tranquillo. Ok. Piccolo giro di ricognizione qui. Piccolo. Ciro di ricognizione. Vieni. Può neppicare sì, grande. Chiaruiti. PуляBooki. No.